direzione verso il nuovo mezzo tra l'altro tra l'altro vi faccio vedere qua la serietà del video di oggi microfono servivano i saldi di amazon per questo pronta vi faccio notare che non lo testerò io il mezzo nuovo perché non ho la tuta sfortunatamente ecco ma lo testerà taylor dai 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 che qui non aspettano altro tra l'altro vi faccio notare vi faccio notare che non abbiamo il telo quindi abbiamo preso qualcosa di diverso pronti a scoprire il super mezzo potenza elevatissima quando vuoi dai facciamo vedere qui il bello di avere un mezzo elettrico come a devi accendere e anche eco sostenibile dopo un po si spegne da sola bubu vieni anche tu niente lo lasciamo qua full gas vai col test drive no paghi tutto e invece e io vado demolita moto nuova ragazzi già distrutta online offline online è la madonna raga ma un cifro aspettate proviamo in discesa mi 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 voglio vendere il 4.50 per prendermi una come questa troppo bella vediamo se si impenna meglio di no se ho già capito che domani lei si compra una mini moto è quasi più esaltate lei di me ragazzi assurdo comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di un mini moto così vi dico che è da provare assolutamente anche perché è un cinquantino magari mi piacerebbe testarlo provandolo magari un hm tipo versus assurdo magari fare un hm versus ktm 50 secondo me sono lì eh anzi forse essendo elettrica neanche di più guarda 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 come sia la pinna test del biscottino bianchi qua allora la frizione qua è immaginaria quello il freno dietro e sopra e davanti vai vai dai gas a bisqui o no bang ma io ti faccio eh quasi eh anche come è come è dacci la tua impressione po' eh non te l'aspettati non te l'aspettavi eh Raga questo è un tutorial su come farsi male Vai vai Ho capito ragazzi che la modalità migliore per impennare è 5 Perché 6 dà troppo il colpo Invece con la 5 riuscite a dosarla da paura Beccatevi che roba eh Pronti? 3, 2, 1 Bam Tra l'altro i freni fanno paura Sono immediati Fisissimo giuro Bam 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 Che semplista Vediamo in salita come se la capa Qua buttiamo una sesta dai per sicurezza Bisogna fermarsi Sesta a fuoco Questa è una bella salita ragazzi in pendenza E non fa un baffo Tiro ugualmente di brutto Bene ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere cosa ne pensate della mia mini moto iscrivetevi al canale lasciate un bel like e alla prossima stavo solo provando a fare un avanti e indietro pensavo che fosse il mio nipote non è così grande come te se non ha provato un motorino no ma è elettrica questa elettrica ma fa paura non me l'aspettavo neanche io veramente guarda faccio in avanti indietro si si guarda quanto va ragazzi non se lo aspetta nessuno da questo mezzettino qui va fortissimo ciao 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 ciao